prima ha detto c'è rischio che casca pure il colosseo po casca pure il colosseo no ha detto prima stavite la e il colosseo a rischio ha detto la ha detto colosseo a rischio per terremoto del 3.2 scala chiocciola ha detto prima che devo fai ma tu t'arri con me ma c'è tutto qua c'è tanto tutto ma non è giocato prima ora se andiamo al campo vuoi venire al campo con me tanto in sicilia stanno tranquilli e qui fa il terremoto e se casca casca fa una cosa o vuoi il casco ti mette il casco e che poi come davi mo chiamo chiamo il comune per sapere che dicono che tanto poi quello che dicono che è leggero è 3,2 ma poi le posso dire una cosa questo palazzo è sicuro ancora questo è sicuro quando viene giù questo ma fa cosa che ha detto qua ma che internet ma non dice niente che deve dire e allora chi ti va a scendere internet tutto quanto tutta giornalisti testate queste cose qua ma di che ci devi avere paura quelli ti tengono pure calmi perché che ti dicono che vi è al terremoto e dove vai se adesso ti dicono dopo far il terremoto che fai tu esci e dove vai per strada ma tu non ti preoccupa ma non ti preoccupa ma non hai già madonna la razza che non ha detto ma qui ci dai e siamo proprio a tutti qui se non capisci proprio niente ma non è in casa ma è sempre quindi qui ha anche il lavoratore alla regina mario mario un'idea ha fatto il punto proprio sui quando era utilizzato per per verificare se è possibile utilizzare in queste zone colpite dal cisma Valentina è tutto da matrice grazie allora in Francia dove è morto uno studente italiano aggredito nel fine settimana Ciro Ciocca, vent'anni in provincia di Campobattere si ma dice che qua arriva piano arriva piano arriva piano te l'ho fatto legge prima 3.2 ma un pochetto ma che te lo dico se stai a dormire manco te la accorgi ma che c'è a dove sai che dici tutto corso è qua è 3.2 si muove il letto si muovono i lampadari massimo casca qualche qualche tegola ancora massimo veneggi qualche palazzo vecchio vedi la facciglia tu e tanto che vuoi fare io mi metto a dormire poi se casca casca in atto su gran parte del sud ma andremo a vedere come è la situazione abbiamo visto maltempo anche sull'appellino centrale oggi sulle zone del terremoto continuerà questa situazione ha sentito il terremoto ha detto muo? all'occhio di questo ciclone mediterraneo questo minimo che si è approfondito appunto sulla vasta cilena questo momento si sta portando verso lì c'è l'occhio lì c'è l'occhio eh ma prima ha detto dell'occhio ma che gli è il buco? l'occhio ha sentito? terremoto anche a Lazio eh che devi fare? ma tu me guardi no? ma io che te faccio? devo andare a parlare con Gesù Cristo? ma tu è un mutagiglio veramente io non lo so ma che si fa veramente? ma come è venuta la porra di Gitanottatré? eh ma così hanno detto ha detto pure muo che ha detto? dell'occhio eh ma la leggete però va 3,2 massimo casca qualche casa mica tutte fanno una casa sì e una casa no poi se noi siamo una casa no sì e no cazzo no 100 euro capito qualche casa casca ma niente di grave chiama donna ragazzi oddio ecco ok ma no 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 Grazie a tutti.